C'è il più importante paese in Europa, quindi dovremmo essere qui. È un musterio. E quali i vostri novitici? Potremmo essere qui con molti nuovi prodotti? Sì, siamo un labo che appartiene al gruppo di winery e abbiamo le nostre molecoli patente. E abbiamo comparato con la vitamina C pura e abbiamo più di 20 e 30 più anti-oxidante, come diciamo, anti-aging. Quindi abbiamo combinato con i migliori ingredienti naturalmente, che potete trovare oggi nel mercato. E questo è il resto. Grazie a tutti.